Cosa succede quando mettiamo insieme due batterie di capacità diversa? Ovviamente devono essere due batterie con la stessa chimica, non possiamo mettere in parallelo batterie di chimica diversa, altrimenti potremmo avere problemi. E tutte e due le batterie devono essere completamente cariche, in modo appunto di non avere squilibri nel momento che le andiamo a collegare. Dopo un po', comunque si equilibrano. Però andiamo a vedere insieme questo esperimento, che secondo me è molto interessante. Iniziamo guardando lo schema elettrico del nostro test. Abbiamo due batterie, una da 100A e una da 20A, con due strumenti che misurano la potenza, gli ampere e i volt. I negativi delle batterie sono tutti collegati sulla stessa busbar, anche il negativo del carico. I positivi sono anch'essi collegati tutti su una stessa busbar, con la linea con l'interruttore che alimenta il carico. Accendendo l'interruttore, il carico si accende. In questo test cosa dobbiamo controllare? Dobbiamo vedere se effettivamente è vero che quando si collegano due batterie con capacità diverse in parallelo, la corrente che uscirà dalla batteria piccola sarà proporzionale alla corrente che esce dalla batteria grande. E la totale dell'energia disponibile di questo sistema è la somma delle due potenze. Sui nostri strumenti, se questo carico consuma 12A, dovremmo leggere circa 2A sul primo strumento e 10A sul secondo strumento. Le batterie quindi si scaricano insieme. Quando la 100A arriverà a 0, anche la 20A sarà completamente scarica. Abbiamo una batteria da 100A, la WattCycle, batteria molto interessante, presto ci sarà sul canale la recensione su questa batteria e in uso un po' particolare, composto da 3 batterie in serie per alimentare i motori di prua. Abbiamo un'altra WattCycle da 12.8 come questa, però 20A. Qui c'è scritto 12V, in realtà è una 12.8 anche questa, con la stessa chimica come potete vedere, però con due amperaggi completamente diversi. In un caso abbiamo 100A, in un caso abbiamo 20A. qui abbiamo due lettori sia di tensione che di corrente che di potenza, li ho montati in serie e qui c'è questo piccolo circuito che sembra tanto complicato ma in realtà vi assicuro è semplicissimo. Praticamente ho due bus par, una dei poli positivi ed è questo qui che va all'interruttore generale. L'interruttore generale fa tutto un giro strano per arrivare al nostro carico. Sono due lampadine da 50 Watt, quindi noi preleveremo circa 100 Watt. In realtà io queste lampadine le ho già misurate, facciamo un prelievo un po' superiore, saremo sui 105-110, ma per quanto riguarda l'esperimento non ha tanta importanza. Comunque, ricapitolando, queste due batterie sono semplicemente collegate insieme sulle due bus bar, la bus bar dei negativi, quindi con i cavi neri e la bus bar dei positivi, quella con i cavi rossi. Queste tramite l'interruttore vanno a accendere le due luci. Proviamo a collegare, vediamo intanto cosa succede. Un piccolo controllo alle tensioni, metto lo zoom, eccoci qua, 13,34 e 13,31. Dopo vi farò notare ancora una piccola cosa su questo impianto, ma per l'esperimento che dobbiamo fare noi va più che bene. Bene. Ora sono collegati insieme, come vedete, le due tensioni si sono praticamente equilibrate. Vi faccio notare ancora una cosa. Questi cavi, sulla batteria più grossa, sono leggermente più sottili di questi della batteria più grande, ma ho preso cose di recupero. In parte le avevo già. Quindi qui ci sarà una leggera caduta di tensione che mi andrà a modificare un po' i valori, ma a noi non interessa. A noi ci interessa dal punto di vista generale come funziona. Tanti mi hanno chiesto, sul video che ho già pubblicato, dove parlo della serie parallelo, se mettendo due batterie diverse effettivamente non abbiamo dei problemi di scarica. Adesso andiamo a vedere cosa succede quando accendo la lampadina. Accendiamo. Ecco fatto. Le batterie sono scese un po' di tensione. 13,24. 13,18. Come vi dicevo, i due cavi non sono uguali, questi due, sia il positivo che il negativo, e questo crea una piccola differenza di caduta di tensione. Ma già qua possiamo vedere qualcosa. Qui abbiamo un consumo di 95 watt e qui abbiamo un consumo di 23 watt. Come vedete siamo più o meno un quinto. Guarda caso, 100 ampere, 20 ampere. Allora i ragionamenti tornano. Mentre si scarica la batteria da 100 ampere, si scarica proporzionalmente anche la batteria da 20. E questo succede anche nel momento in cui farò la ricarica. Se io dovessi caricare adesso queste batterie, utilizzando questo sistema, cioè tenendole sempre in parallelo, si caricarebbero proporzionalmente. Questa batteria assorbirebbe più ampere, più o meno cinque volte tanto, di quanto assorbe questa. Come potete vedere, la tensione si sta abbassando. 13,18. 13,15. Questo è per la caduta di tensione che abbiamo su questo cavo un po' più sottile. Però la potenza è comunque sempre proporzionale. Qui abbiamo 21 watt, qui ne abbiamo 96. 7 ampere e 31 da una parte, un ampere e 60 dall'altra. 13,18. 13,13. 21 watt, 96 watt. Interessante anche questa cosa che rende ancora più completo il video. State attenti quando fate i cablaggi nelle batterie in parallelo. I cavi devono essere uguali, sia come lunghezza che come sezione. Presto sul canale troverete un video che parla proprio della resistenza. Spiegherà come è intimamente legata alla resistenza e ai volt e gli ampere. Ovviamente stiamo parlando di cadute di tensione, non stiamo parlando di generazione di energia, assorbimento di energia. Ma queste cadute di tensione sono molto importanti nei nostri progetti e quando andiamo a progettare appunto il nostro sistema solare. Su questo canale troverete tanti esempi pratici. Presto iniziamo tutta la serie che riguarda generazione di energia elettrica con i pannelli solari. La trasformazione tra DC e AC con gli inverter, i controller solari e tutto quello che bisogna sapere per riuscire a progettarsi e a costruirsi un impianto. Uno dei primissimi video che vi consiglio di andare a vedere riguarda la sicurezza. Troppi, veramente troppi video su youtube non prendono in considerazione questo aspetto. Stiamo parlando, stiamo parlando di batterie, questo è l'acido, che sono molto più pericolose delle batterie a litio e vi spiegherò bene perché. Proviamo a spegnere. La tensione piano piano risalirà un po'. Siamo a 13,26 e 13,24. Un altro aspetto interessante. Voglio mostrarvelo subito. Questa è l'applicazione. Questa è la batteria che ho già, che ha già trovato, il bluetooth, che è questa, la 100A versione Smart, Smart Edition. Batteria molto bella e molto interessante che vi mostrerò a breve. Riconosciuta dall'app, andiamo a selezionare. ecco qua. Praticamente la batteria è ancora a carica e al 100%. Qui abbiamo le temperature interne di tutte le celle, lo stato delle celle come tensione e la carica. Adesso proviamo a collegare le luci. ecco fatto. Si sta scaricando. È passata al 99%, anche perché prima avevamo fatto delle prove. Discarge modes. E qua abbiamo la potenza. 93 Watt sta buttando fuori, che è in pratica, sì, abbastanza simile alla lettura che abbiamo sopra. Siamo passati al 98%. Una cosa che possiamo fare su questa app, se vogliamo, è spegnere la scarica, quindi gli utilizzatori. L'interruttore è questo, basta schiacciarlo. Io adesso ho staccato la batteria. Infatti questo mi dà 0 Watt. E la batteria, che ho qua, la 20 Ampere, sta buttando fuori 110 Watt. Adesso la riattivo perché non voglio squilibrare troppo le batterie. Ok. Questa qua deve recuperare un po'. Adesso ci sarà un piccolo travaso di corrente tra una batteria e l'altra, ma si subito stabilizza. Qui abbiamo di nuovo 101 Watt, 100 Watt. E qui ne abbiamo 16. Torniamo sempre al totale, come era prima. Se andiamo a spegnere, vediamo che torna tutto normale. Come vi dicevo, è un vantaggio questo. Io posso mettere una batteria, anche piccola come questa, una 100 Ampere, con il Bluetooth e avere tutti i dati della batteria. e metterne una senza il Bluetooth in parallelo e utilizzare la stessa applicazione che mi darà comunque la capacità totale e quando sto per arrivare alla fine o al 50%. Perché è sempre proporzionale il discorso. In questo caso la batteria più grande è questa. È questa qui. però potrebbe essere questa la batteria più piccola e qui avere una batteria, per esempio, da 280 o 300 Ampere. Con questa applicazione posso sempre tenere sott'occhio il sistema. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ricordati di lasciare un like e di iscriverti, così ti arriveranno le notifiche quando pubblico qualcosa di nuovo. Ciao.